Mister, come arriva domani la squadra, la sfida contro il Barcellona valida per il trofeo GAMPER? Ci arriviamo dopo una settimana di allenamento tutti assieme, con gli ultimi arrivati. La squadra si è allenata, diciamo, bene, con entusiasmo, con voglia. È una tappa intermedia, vista che poi abbiamo un'altra amichevole prima dell'inizio del campionato con l'Atalanta sabato prossimo. Quindi è una bella sfida, una sfida tra due grandissimi club, quindi la dobbiamo affrontare come l'avvento si affronta tutte le partite, con grande serietà e soprattutto per vedere, serve a me per vedere la condizione della squadra e di alcuni giocatori, da quelli che sono arrivati prima a quelli che sono arrivati nell'ultima settimana. La Juve torna a giocare il trofeo GAMPER dopo 16 anni, la prima e unica volta risale al 2005. Lei l'ha già vissuto dalla panchina del Milan nel 2010. È una partita estiva dal sapore un po' speciale, visto il blasone del club avversario. È una partita speciale perché comunque è sempre Barcellona e Juventus. È una partita sicuramente che alza il livello di attenzione e ci fa preparare bene all'inizio della stagione. Questo è un test importante di questa fase precampionato. Che tipo di crescita vorrebbe vedere domani nella sua squadra? Innanzitutto domani è un test dove mi piacerebbe vedere che si giocasse da squadra, sia quando abbiamo la palla che quando non l'abbiamo. Poi dopo voglio vedere la crescita di alcuni giocatori perché comunque domani ci saranno alcune, non sperimentazioni, ma alcuni giocatori che secondo me possono ricoprire dei ruoli di metà campo e quindi domani le voglio vedere. Rispetto alla gara di Monza avrà a disposizione molti più giocatori che hanno disputato le varie manifestazioni internazionali quest'estate. Darà spazio a tutti, compresi i quattro italiani e a Paolo Di Bala? Di Bala no, perché di Bala preferisco farli fare gli altri due giorni di allenamento perché si è aggregata la squadra avanti ieri, se non sbaglio ieri, e quindi portarlo giù sarebbe un rischio. Ho parlato con Paolo e abbiamo deciso che comunque l'ideale è che lui rimanesse qui a fare allenamento. Gli altri invece vengono tutti e chi più e chi meno giocano tutti e fanno parte della partita. Per l'imminente avvio di stagione ha già in testa un modulo oppure vedremo una Juve molto camaleontica dal punto di vista tattico? Modulo no, dipende dalle caratteristiche dei giocatori che andrò a mettere in campo, che sceglierò, però più o meno i ruoli sono ben definiti, delineati. Ho due curiosità mie nel vedere se alcuni giocatori possono giocare in determinati ruoli. Molti giocatori li conosceva già, altri li ha conosciuti per la prima volta in queste settimane. Mi dà una sua valutazione personale sulla rosa che ha a disposizione in questo momento? La rosa è un'ottima rosa, una rosa che l'anno scorso comunque ha vinto due trofei, si è qualificata in Champions e ha raggiunto l'ottavo di Champions. Quindi secondo me bisogna lavorare, continuare il lavoro che mi è stato lasciato da Andrea e cercare di migliorare quello che ho trovato. Però per far questo ci vuole molto spirito e sacrificio, ci vuole per arrivare agli obiettivi finali che sono quelli di maggio, dallo Scudetto alla Champions, Coppa Italia e a gennaio o dicembre ci sarà la Supercoppa. La voglia comunque tutti i giorni di mettersi in discussione, di lavorare, perché comunque questo è il DNA della Juventus. Attraverso quello riusciremo ad arrivare ai risultati. Un'ultima cosa, c'è qualche giocatore in particolare che l'ha stupita in positivo in queste prime settimane di lavoro con lei? Direi che ci sono molti ragazzi giovani, da Krusevski a De Litte, De Winter, ragazzino bravo, ora no, che nel settore giovanile hanno lavorato molto bene. Poi direi che ho trovato gli altri ben disponibili, soprattutto con voglia di rivincita per ritornare comunque a cercare di vincere lo Scudetto. Però su questi giocatori giovani direi c'è molto margine di miglioramento. Gli ho chiesto a loro che comunque dipende esclusivamente da loro, dalla voglia che hanno di migliorare e dall'ambizione che hanno di migliorarsi e arrivare a certi risultati. Quindi credo che abbiamo tutto l'anno intero per poter migliorare, per poter migliorare i singoli e per mettere a disposizione la squadra.